Benvenuti in un'altra puntata sul canale, anche questa volta ragazzi la nostra KC ci siamo portati nella nostra fase 2 Deck molto divertente, non è il massimo devo dire della potenza, però devo dire la verità Per chi vuole giocare, avere risultati e passarsi il tempo, questo deck io lo consiglio tranquillamente Classica versione 2x, quindi come sempre ragazzi non c'è bisogno di tirarsi i capelli per aprire magari il box 3x Perché questa versione funziona abbastanza bene, quindi come sempre prima di iniziare vi chiedo un like sulla fiducia e simpatia Mentre se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale per aiutarci a crescere e supportarci gratis E come avete potuto vedere ragazzi dal personaggio stiamo parlando del deck toon, siamo contro Baphomet ragazzi Questo ci manda dritto dritto all'inferno Allora, magia del mago, ok, iniziamo noi, bene, andiamo con terra formale per prendermi il regno toon Che rende intarghettabile comunque i miei mostri, ma dato che bandisce 3 carte Preferisco continuare a pescare e poi giocare il regno toon Perché chi nasce toon non muore quadrato ragazzi, ricordatelo Metto lui, tranquillamente Turno 1, non possiamo fare nulla, questo è un vero peccato Comunque che a prescindere i mostri in realtà non possono attaccare Lui ci bandisce, regno toon, giocata onesta Ok, lui va al segreto della magia nera Va a diffusione, maghi neri Ci attacca tranquillamente Comunque il nostro mostro rimane lui sul campo Reattivo l'abilità per volere il mondo turno e per poter attivare la mano dei fumetti Io rubo il mostro Attacco direttamente, vabbè ragazzi qui meccantichi Incredibile, bello L'avversario non può attivare effetti Quindi noi andiamo dritto dritto ai life points dell'avversario E andiamo avanti contro Zenith Truesdale Che non ricordo cosa giocava Iniziamo noi, questo è buono perché dato che non possiamo attaccare nel turno in cui invochiamo sti benedetti I mostri Per noi è buono iniziare per primi Classica giocata, mi vado a prendere il regno toon Utilizzo foglio illustrativo per prendere un'ulteriore carta Andiamo a mettere il regno toon Uno Tolgo questa volta l'ingranaggio antico, lo scarto Per mettere giù il suo soldato nero in difesa Metto una carta coperta e via Il nostro avversario è un urs artico Ok, lui fa tutta la sua evocazione Mette qui, attiva effetti Dovrebbe ora, prendere le doppie carte, dovrebbe fare comunque un sincro Eccolo qui Mettere la carta terreno Io glielo ributto dentro sinceramente Così non rompe le scatole Carta terreno Mette dentro Finito del turno Io vado ad attaccare Ragazzi, forza riflessa e vado a bandire ulteriori due carte Ma noi tranquillamente possiamo attaccare e andare dritto Eh, l'avversario ovviamente non potuto fare niente Altro rank up ragazzi E affrontiamo qui Yugi Muto Di nuovo l'AKC Nostro avversario Ade Tanto per rimanere in tema di al di là ragazzi Tra Baphomette Ade Comunque questa AKC è stata un po' lugubre Ok, l'avversario inizia classico Ovviamente Black Last Soldier Bell deck Ritore del super soldato Lui bandisce la carta Mette il primo Attiva l'abilità Rimette le carte dentro E reattiva forma del caos Ragazzi, attenzionate Sempre forma del caos Quando attiva comunque Il secondo soldato nero In questo caso lui è attivato Lui Io non l'avrei fatto sinceramente Comunque, mago nero Scarto ulteriore mago nero Mi prendo la carta magia Prendo il segnalibro tun Per prendermi il mondo tun Ecco qui Lo metto sul campo Una e due carte coperte E andiamo avanti L'avversario lo evoca adesso Ma io lo butto dentro Di nuovo dentro il deck Lui riattiva di nuovo l'abilità Di nuovo lo riattiva E io ragazzi Di nuovo Lo copro Ok Lui non può fare nulla Ci vendiamo questi danni Non è un problema in realtà Per noi Scarto una carta Evoco Il soldato nero Viene chiuso dal buco trappola Di nuovo Io Libro della luna Ragazzi Andiamo a ristallare l'avversario Tocca di nuovo a noi Questa volta Mano dei fumetti Gli rubo il mostro Gli distruggo comunque Il suo glorioso soldato nero Oltre a quello Se anche l'effetto Si attiva Del nostro glorioso soldato nero E siamo di nuovo Contro Yugi Mutu Ragazzi Questa KC È stata piena di Black Last Soldier E maghi neri Ne ho trovati veramente Veramente Tanti Comunque Io dubito Che ci sia un nerf Al Black Last Soldier Comunque Che alla fine Sia un deck forte Ma io personalmente Non l'ho trovato Poi così Fortissimo Quindi Foglio illustrativo Andiamo a prendere Il segnalibro Tun Di cui vado a prendere Il regno Tun Quindi ovviamente Accorciare il mazzo Perché comunque È molto utile Lui ci bandisce le carte Metto 1 e 2 E unica carta Trappola a coperta L'avversario fa tutte Le sue giocate Rivolte dell'esercito Cavaliere del crepuscolo Pari versioni Abbiamo di questo Black Last Soldier Anzi BLS E così accorciamo ragazzi Ok Glorioso soldato nero Lo Niente Si ferma Si ferma Attacca Noi bandiamo una carta Ragazzi Ritorno Tun Lo facciamo sul golem In granaggio antico Possiamo attaccare Due volte E fare 6.000 Di danni diretti E chiudiamo qui La nostra partita E questa è la partita Che mi ha partita Ragazzi Alla fase 20 Siamo contro Alito Siamo contro Un collega Asiatico Youtube Ragazzi Serie vincente Attuale 4 E vediamo Il nostro avversario Cosa ci offre Perché non mi ricordo Completamente Era un altro Statico Ok Ok Quindi lui Attiva qui Il mic etano Si prende il mic polare Attiva il mic polare Fa il singro Mette giù Il Grande carro Che se ha 7 segnalini Mi può rubare un mostro Qui ragazzi Bellissima la giocata Diva del mare Bandisce già 4 carte Dal mio deck Una cosa ovviamente assurda Poi mette ovviamente Un singro E chiude qui Noi con terra Formare Ci andiamo a prendere Regno Toon Ovviamente Non l'andremo a giocare Andiamo a prendere Un'ulteriore carta Mago Nero Qui ragazzi Da vedere Le carte bandite Ma fermati un attimo Amico mio Ragazzi Già qui Siamo a 7 carte bandite Incredibile Il deck è proprio Ridotto allo stremo Mago Nero Scartiamo Il mondo Toon Preso con La nostra Abilità Mettiamo Il grosso Soldato Nero E preferisco Togliere la carta magia Ragazzi Che come possiamo dire Comunque è la base Di questo deck È molto forte Quindi preferisco Toglierla E andare a bloccare Un po' Le sue giocate Ne attiva l'effetto Ne bandiamo Un'ulteriore carta In questo caso Ragazzi Andiamo qui Col mago Nero Attivo Mi prendo una carta Trappola Per difendermi Qualora avesse avuto Il roid in mano Non ce l'ha Non ha avuto Niente alternative Quindi noi possiamo Andare dritto Tranquillamente E portarci La nostra Bella fase 20 Come vi faccio vedere Qui ragazzi Ecco qui Fase 20 Qua non fate caso Alle sconfitte Che stavo provando Un deck Veramente meme Allora ragazzi Questo è il deck Che io Ho giocato Come potete vedere Comunque poi alla fine L'ingranaggio antico L'ho tolto Ma se l'avete ragazzi Lo potete mettere Tranquillamente Tutto sotto Non è male Lo potete evocare Normalmente Già è un 3000 Di turno 1 Che l'avversario Si trova Maggior ragione Quando dovete attaccare Utilizzate prima lui E l'avversario Non può attivare Né carte Né effetti Quindi è buono Per fargli uscire Qualche carta così Ho tolto ragazzi La E qua Porco disco Non si vede L'altra carta magia Comunque l'ho tolta Viva che attaccavano Due volte Perché praticamente Andava molto spesso A briccare Quindi ho preferito Giocare in questa maniera Terraformare Potete vedere Il segno libro Toon 2 per Abbiamo il foglio Illustrativo Toon Che comunque Serve anche a superire La mancanza Del 3 per Qui varie carte Ragazzi 24 ore Toon Simpatica Però se non avete Un mostro Toon Sul campo Questa carta Non serve Completamente A niente Espositivo di salvataggio Un per Dell'uno Dell'altro Ragazzi Come carte trappola Potete mettere Anche un po' Quello che volete Qui La cavaliere Del incubo Fenice Ce l'ho messo Perché mi andava Di metterlo L'ho messo così A casarci In realtà Non serve un cazzo L'extra deck Ragazzi Non potete Totalmente Utilizzarlo Detto questo Spero che il video Vi sia piaciuto Vi abbia illuminato Un po' Quel mondo Toon Detto questo Noi ci vediamo A un prossimo video E come sempre Vi ringrazio Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo